Laura era piena di loro, partigiane e partigiane col fazzoletto al collo, c'era il Presidente del Senato, il Capo dello Stato e c'erano tanti deputati e deputate. Loro erano non ospiti ma padroni di casa, perché se il nostro Parlamento oggi è libero lo dobbiamo a loro, erano e sono i padroni di casa.